C'è forse una lite finita male alla base del ferimento del romeno Gheorghe Telbutukaru di 26 anni raggiunto da alcuni colpi di pistola due sere fa nel quartiere marina a Licata. L'uomo adesso sta meglio e ancora ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I carabinieri della compagnia di Licata, coordinati dal comandante Marco Currao di concerto con la procura di Agrigento che indaga sul caso, attendono le disposizioni dei sanitari per poter interrogare il romeno e cercare di capire in quale direzione poter avviare le indagini. Pare che siano stati due malviventi ad esplodere dei colpi di pistola ad indirizzo dell'uomo che risiede in città assieme alla moglie e alla sua famiglia. Ed è stata proprio la moglie ad avvisare i soccorsi quando ha visto a terra il marito privo di sensi in una pozza di sangue. L'uomo raggiunto in più parti del corpo è stato trasferito dopo le prime cure che si sono state prestate dai medici dal pronto soccorso dell'ospedale di Licata ad Agrigento.